Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Non ci sono notizie rassicuranti sullo stato di salute di Papa Francesco. Da qualche tempo, la preoccupazione era cresciuta e il pontefice aveva dovuto rinunciare a diversi eventi previsti nel mese scorso. Nonostante i problemi di salute, Papa Francesco non ha voluto rinunciare a un evento programmato con la comunità dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù in Vaticano. In mattinata, Papa Francesco è arrivato in aula Paolo VI in sedia a rotelle per dare il benvenuto ai piccoli pazienti e ai lavoratori dell'ospedale. Visibilmente affaticato e con un filo di voce, il Papa ha chiesto a un intermediario di annunciare il suo messaggio ai presenti prima del discorso preparato per l'occasione. Francesco ha spiegato la sua situazione e ammesso di non essersi ancora ripreso del tutto dall'influenza, che ha colpito in particolar modo i polmoni, rendendogli difficile la respirazione. Purtroppo, ha anche dovuto rinunciare ad alcuni dei numerosi impegni previsti per l'inizio dell'anno. Oltre ai problemi polmonari, il pontefice soffre anche per un ginocchio per cui è stato recentemente operato. E voi, cosa ne pensate di Papa Francesco? Lasciate un messaggio di pronta guarigione a Papa Francesco qui sotto nei commenti che apprezzerà e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore